ciao a tutti e bentornati sul canale delle perle di vale oggi video unboxing di pandal selected mi è arrivato il pacco ora andiamo a vedere quello che ho preso questo è la mia lista vi faccio vedere ho preso da fare questi questo è il codice faccio vedere sono due portamonete a clic clac già pretagliati vedete c'è già il filo è già tutto a posto vedete già con la sua fodera con il suo indurente vedete che con la sua chiusura poi vi farò vedere come farli e questi sono due nel set sono due portamonete poi ho preso questo sapete che io ho iniziato a fare anche le borse quindi ho cercato delle cose che potesse andare bene poi anche per fare dopo quando ho finito i video guardate vi faccio vedere cosa ho preso questi sono due porta questa è un portamonete adesso non so spiegarvi come viene sono quelli che praticamente vengono piccolini e si aprono a libro così poi vi faccio il video vi faccio vedere e questo è un altro vedete qui c'è già la sua la forma con i buchi che io poi faccio farò con il punteruolo e qui c'è già la sagoma c'è già tutto poi vi vi faccio vedere come farli come vengono e questo il codice è qui non c'è ah sì e questo guardate questo è il codice poi ho scelto sempre inerente alle borse mi sono presa un set intero vediamo questo è una borsa già pre tagliata già pre tagliata e soltanto da cucire qui abbiamo le indicazioni di come metterla ma poi comunque vi faccio vedere è già tutto compreso di accessori cotone vedete e qui ci sono i vari pezzi logicamente questa è di impelle poi vi faccio vedere come si cuce e come si monta la borsa finita dovrebbe venire così vedete così carina non è grande è piccolina ma carina e poi ci sono questi che sono faccio vedere a questo è il codice vedete vedete poi c'è questo questo va insieme a questo che che sono sempre per le borse vi faccio vedere prendiamo la il codice è questo scusate dopo lo metto sulla scatola mi piace molto loro come confezionano le cose perché veramente sono tutte nelle nelle chiusure nelle scatoline di plastica vedete sono punticelli vedete qui per attaccare poi il coso per le borse bene io credo di avervi fatto vedere tutto adesso attacchiamo qua nella nella scatolina così quando facciamo il video vi faccio vedere ancora il il codice bene questo è tutto spero che di avervi fatto cosa gradita farvi vedere quello che saranno i prossimi video iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto attivate la campanellina e se mettete un like mi farebbe piacere così aiutate il canale a crescere io vi saluto e vi do appuntamento al video tutorial che non so qual è inizierò per primo ma sarà comunque su questo materiale ciao 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 ciao